Affermando che senza il tuo arrivo il maggio sarebbe fallito, dichiari qualcosa che stride con i fatti. Lo scrive in una lettera aperta l'ex sovrintendente del maggio musicale fiorentino, Cristiano Chiarot, rivolta al successore Alexander Pereira. Una lettera per rispondere alle dichiarazioni di quest'ultimo circa la condizione economica del maggio dopo le polemiche legate alle sue spese a carico della Fondazione Lirica. Citando la nota integrativa al bilancio consuntivo 2019, Chiarot ricorda che il risultato d'esercizio si era chiuso con un avanzo di poco meno di 1,3 milioni. Un risultato ottenuto senza poste straordinarie, senza ammortamenti e dimostrando l'efficacia del percorso di risanamento intrapreso. La gestione della tesoreria continua all'ex sovrintendente ha consentito di pagare con regolarità le rate del servizio del debito e di far fronte a tutte le scadenze fiscali e contributive. Il patrimonio disponibile, aggiunge Chiarot, che nel 2017 era pari a meno di 4.951.650, a chiusura del 2019 era di più 1.505.801 e soprattutto erano stati azzerati i debiti con gli artisti, pari a circa 4 milioni. Chiarot rivendica anche le stagioni liriche e sinfoniche programmate nei dettagli. Il Festival 2020, con alcuni titoli già stabiliti, è una saturazione della sala dell'80% per la lirica e dell'87% per la sinfonica, una biglietteria in forte crescita, una pianificazione di cassa pluriennale che comprendeva pagamento di debiti, stipendi, spese artistiche in maniera regolare. Niente a che vedere, continua, con la situazione di fallimento che hai paventato. Anzi, certo, il forte debito del maggio rimaneva, ma come evidenziano i numeri, avevamo cominciato ad aggredirlo e ridurlo, dopo decenni in cui era solo esploso in maniera incontrollabile. La situazione, conclude Chiarot, era equilibrata, preoccupante per lo stock di debito, ma perfettamente sotto controllo, grazie anche a una dirigenza di qualità che tu stesso hai riconfermato. Situazione ben diversa, lasciamelo dire, dal contesto che ho affrontato nel 2017.